A ritorno! Dai, grazie! Pronto, Massi? Pronto, pronto! Guarda Chiara, guarda! Ooooooh! 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 Aspetta, aspetta! Però, scusa! Guarda che c'è la preparazione qui! E' un zumbo che va! E' roba che c'è! E' roba che c'è! E' roba che c'è! E' roba che c'è! A distanza dai anni, compro! Guarda cosa fa papà, eh! Guarda, eh! Guarda che! Adesso c'è! Ooooooh! Eeeh! Eeeh! Hai visto che roba, che numero? Sono qualche altra e quindici! Però vedi cos'è? Certo! Eeeh! 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 Eeeh!